Ed oggi gli studi di Padre Pio TV sono in festa, in festa perché accogliamo un nutrito gruppo di pellegrini che provengono dall'Irlanda e dall'Irlanda del Nord, ad accompagnarli Padre Brian, un volto ormai noto anche per chi segue la nostra programmazione. Ma andiamo per gradi, accanto a me c'è Giulie Carey Cifaldi che è responsabile dell'ufficio inglese della Fondazione Voce di Padre Pio e che ci aiuterà appunto anche nella conoscenza di questi ospiti. Allora innanzitutto benvenuta a te Giulie, ci puoi presentare appunto il gruppo che oggi è venuto a trovarci? Sì, abbiamo un gruppo proveniente dall'Irlanda e Irlanda del Nord, quindi abbiamo Padre Brian che ormai conosciamo per il programma che appunto realizza per le persone di lingua inglese. E poi accompagnato accanto a lui c'è un altro sacerdote. Sì, so your name is? Padre Corey. Abbiamo Padre Corey. Padre Corey e poi i membri appunto dei gruppi che sono qui. Abbiamo la signora Eileen Maguire che per tantissimi anni si è occupata della devozione in Irlanda dell'Irish Centre for Padre Pio che adesso è in pensione e adesso Michael che ci aiuta dall'Irlanda per quanto riguarda l'evangelizzazione sul territorio irlandese. Allora sono venuti qui a San Giovanni Rotondo visitando i luoghi di Padre Pio, quali sono le loro prime impressioni per magari chi è venuto qui la prima volta o per chi ha già una conoscenza di Padre Pio? A chi possiamo chiedere? Sì, sono quasi tutti veterani. Is there anybody here that has been here for the first time in San Giovanni or you've all been here many times? Sono tutti veterani. Tutti veterani, quindi che conoscono bene la realtà di San Giovanni Rotondo. Allora Padre Brian. La responsabilità di portare un gruppo di pellegrini a San Giovanni Rotondo per visitare i luoghi di Padre Pio, che messaggio prendono queste persone arrivando qui nei luoghi di Padre Pio? So Father Brian, you have an important role of bringing over pilgrims and devotees of Padre Pio to San Giovanni Rotondo. What do you think is the message they feel when they arrive here in San Giovanni Rotondo? Well, Ireland is, you know, several hundred kilometres away, but yet it's so close because San Pio is a real bridge between Ireland and San Giovanni Rotondo. And in fact, he has been for many, many years, even when he was alive. Padre Pio was someone who is very much a saint of our time. We see him on Padre Pio TV. We hear him. We see his photographs in colour. You know, we can connect so easily with Padre Pio and Padre Pio was someone who brings us to Jesus Christ. So the message is very powerful. God is real and God is near and Jesus is close and interested in each of us and wants to be part of our lives and loves us very much. and Padre Pio is someone who always teaches us that and tells us that he did when he was alive and he's doing it now from the kingdom. He said he will spend his heaven praying for everybody and working harder than he ever did. So I believe that's a very powerful message that Padre Pio is real. Il messaggio che loro hanno è molto potente perché nonostante loro si trovino a parecchi chilometri di distanza, la figura di Padre Pio è molto vicina a loro. Quindi riescono anche ad interpretare il messaggio di Gesù tramite Padre Pio, che sentono reale, sentono vicino. Quindi è un messaggio molto potente, quindi hanno delle sensazioni molto forti quando vengono qui a San Giovanni Rotondo. C'è un luogo in particolare dove raccolgono queste sensazioni, quello che rimane più impresso ogni volta che vengono qui a San Giovanni. Is there a special place here that gives you particular emotions when you come here to San Giovanni Rotondo? Yes, for me, I actually love the Chiesa Antica. A Padre Brian piace molto la Chiesa Antica di Santa Maria della Grazia. Gli altri ospiti hanno magari qualche impressione da condividere con noi in relativa appunto ai luoghi visitati. So, yes, you, Father Corey, what are your feelings when you come to San Giovanni Rotondo visiting these places where Padre Pio was? First of all, I returned after 26 years. Ah, lui è tornato dopo 26 anni qui a San Giovanni Rotondo. And the first time I came here I was a seminarian and there was a lady who had known Padre Pio, who was a spiritual daughter of Padre Pio, who had spoken about him and sent me to San Giovanni Rotondo. Ok, quindi quando lui è venuto l'ultima volta era un seminarista e lui praticamente conosceva una figlia spirituale di Padre Pio che gli aveva scritto e gli aveva parlato di Padre Pio. And now that I return to San Giovanni Rotondo is the same feeling like the first time. For me it's especially the Chiesa Antica but also the tomb of Padre Pio. And it's almost the same feeling that you have when you go to Assisi at the tomb of San Francis. Quindi lui ha provato le stesse sensazioni che ha provato 26 anni fa. Quindi le ha sentite molto forti sia nella Chiesa Antica ma anche visitando la tomba di San Pio. Sono le stesse emozioni che si provano anche ad Assisi quando si visitano questi luoghi molto importanti. Ecco, c'è qualche altra testimonianza, magari spostandoci anche da questo lato rispetto appunto alla domanda che abbiamo fatto in precedenza sui luoghi di Padre Pio e sulle loro impressioni. Would any of you like to talk about the impressions, what they feel most emotional when they come here to San Giovanni Rotondo? Maria, for example. Okay, so the emotions I feel when I come, I'm speaking for myself, is the connection to Padre Pio. So I've been a devotee of Padre Pio since I was 17 years of age and the feeling, while it's still the same and I'm learning new things about Padre Pio all the time, I get very emotional when I come back, because I also have memories of traveling with my mother here for his canonization. So wonderful memories and a lot of emotion. Quindi Maria prova delle sensazioni molto, molto forti, perché lei è una devota di Padre Pio da quando aveva 17 anni. Quindi quando torna qui rivive anche dei momenti della sua giovinezza quando veniva qui, tipo lei ricorda che è stata qui con la mamma per la canonizzazione di Padre Pio. Quindi dice che prova delle emozioni molto forti ogni volta che torna a San Giovanni Rotondo. Ha una connessione proprio con Padre Pio. Diretta, c'è qualche altra testimonianza? Non so se può parlare qualcun'altro. Would you like? Yes, please. Tell us about your experience. How many times have you been to San Giovanni Rotondo? Well, I clearly remember the first time I came, it was in 93, so this will be the 30th. Ah, è la prima volta che è venuto, è stato nel 93. And I came with my mother. È venuto con sua madre. Yeah, she started a prayer group in Killarney, and just over in 1981. Allora, la mamma ha iniziato un gruppo di preghiera nel 1981 in Irlanda. And she began to organize pilgrimages in about a year or two later. Uno o due anni dopo ha iniziato a organizzare pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo. Quindi proprio dei veterani, come abbiamo detto all'inizio. Sì, esatto. E questo ci dà la possibilità di comprendere quanto effettivamente sia forte e piena la devozione di Padre Pio in tutto il mondo, in particolare in luoghi come l'Irlanda e l'Irlanda del Nord nello specifico. Ecco, ma più in generale possiamo chiedere che tipo di devozione esiste, quanto è conosciuto, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, ecco questa domanda. Quando è conosciuta la figura di Padre Pio in questi luoghi? Ok, allora, we'll ask Eileen, what can you tell us about devotion in Ireland at the moment? How well known is Padre Pio in Ireland? He is one of the most well-known saints from north to south in Ireland. E uno dei santi più conosciuti, dal nord al sud. Sorry, that is because his name was spread by the friars from here who came to Ireland over the years. In 1968, the year that St. Pio died, Padre Alessio came to Ireland. Nel 1968 Padre Alessio si è recato in Irlanda da San Giovanni Rotondo, quindi diciamo che è cominciato con lui e lui che ha iniziato a far conoscere il santo in Irlanda. Ha portato lo suo, certo. Diciamo che ha radici abbastanza... Yes, he had looked after St. Pio for the last six years of his life. He assisted him. And so he came to Ireland. He was in Ireland when St. Pio died here in San Giovanni. And he returned from the funeral. Then he felt he was free to continue his studies in Ireland. And he was a year and two months in Ireland. And he started going for myriad with the approval of the local friars wherever he was invited by the local pp's, parish priests. He went to different churches and spoke on Padre Pio from north to south. And he was also interviewed on our television. Ok, allora Padre Alessio si è occupato di Padre Pio, è stato vicino a Padre Pio negli ultimi sei anni della sua vita. Dopodiché si era recato in Irlanda e purtroppo quando Padre Pio è morto lui si trovava in Irlanda, quindi è tornato per il funerale di Padre Pio. Dopodiché si è sentito libero di poter continuare i suoi studi in Irlanda. Quindi durante il periodo in Irlanda ha comunque contribuito a far conoscere la figura di Padre Pio, a portare le sue testimonianze. ed è stato anche intervistato dalla tv locale in Irlanda all'epoca. E oggi i giovani irlandesi conoscono Padre Pio? What about the young people? Do they know Padre Pio? Well, we are trying to spread Padre Pio to the young people. And there is literature there that will help young people. It's difficult, but it's happening. Of course they know Padre Pio because their parents know Padre Pio. Sì, loro stanno cercando comunque di far conoscere Padre Pio anche giovani e questo dovrebbe essere possibile perché comunque ci sono dei testi che loro possono leggere, c'è della storia su Padre Pio. Non è facilissimo, però comunque stanno provando a continuare l'evangelizzazione anche nelle nuove generazioni. È un compito molto difficile da parte dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ma comunque è la missione più importante ai giorni nostri. L'Irish Centre for Padre Pio, quindi il nostro centro ufficiale riconosciuto di cui Padre Brian è responsabile con l'aiuto di Michael, adesso ha anche questo scopo. Siamo in conclusione di questa nostra chiacchierata. Con piacere abbiamo appunto accolto questi nostri amici e fratelli qui negli studi di Padre Pio TV, ma lasciamo le ultime parole a Padre Brian per un saluto che ormai lui settimanalmente regala agli amici che ci seguono da fuori. Ma un saluto da parte di Padre Brian per invitare magari chi ci sta seguendo e non è mai venuto a San Giovanni Notondo a organizzarsi per questa sua prima visita. Ok, Fr. Brian, as you're well-known now for your program, we'd like you to give your greetings to everybody and maybe you can spread the word of Padre Pio and people may like to come here to San Giovanni to visit these special places. Yeah, well, it's more an honor, don't know, on a college extraordinary, a college special to say, clar, telefish, Padre Pio, and so. What I said there was it's my great honor to be here in this very special occasion to be here in the television studio of Padre Pio TV and I said it in Gaelic in the Irish language. Ha parlato in gaelico, adesso per questo non abbiamo capito. E niente, sta dicendo che per lui è un grandissimo onore essere qui soprattutto negli studi televisivi di Teleradio Padre Pio. Quindi ci ringrazia per l'ospitalità. And the television on the radio and the internet now is a very very powerful platform to preach the word of God and particularly in this case to share the good news about Padre Pio. Quindi al momento la televisione, i social media, la radio sono strumenti molto importanti, molto potenti per far conoscere Padre Pio e per la divulgazione in generale. E noi ringraziamo davvero di cuore per averci dato la possibilità di conoscere attraverso la vostra presenza le realtà in cui vivete con la speranza ovviamente di incontrarci quanto prima con numeri sempre più ampi di devoti. So we thank you all for being here with your presence for letting us into your world and we hope many more people from Ireland and from other countries will come to visit San Giovanni Rotondo and Padre Pio. Thank you. Grazie e buon proseguimento. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi la nostra programmazione, come sempre, andrà avanti con nuovi momenti dedicati agli approfondimenti. Grazie. Grazie.